Una vicenda che portiamo dentro tutti noi di Romano e anche quelli di Semonzo ma a maggior ragione oggi ci sentiamo di poterla riesumare proprio perché abbiamo celebrato in modo importante e dignitoso i cento anni del saccello della Valle Santa Felicita con lo spettacolo del 9 luglio poi qui è seguito la messa del giorno seguente e poi la serata di chiusura con la storia e la simbologia del saccello alla Madonna del Buon Consiglio ma poco più a nord un tempo c'era un monastero che aveva un effigie della Madonna e avvenne che nel 1636 ci fu un uragano che spazzò via l'intero monastero e l'immagine della Madonna si fermò questa si fermò a Mussolente nella roggia dei Favero e fu lo stesso Sebastiano Favero a raccogliere la Madonna che proveniva dal Valle Santa Felicita questa ebbe anche a produrre miracoli quelli di Romano la chiesero indietro già in quell'anno ma quelli di Mussolente insomma presero del tempo la cosa andò avanti negli anni e allora mi ha detto in Drio sta Madonna sì o no e finché dopo è diventata la Madonna dell'acqua per quelli di Mussolente e per tutte le comunità con Termini ma qui di Romagna vuoi sempre in Drio e ora adesso che è andato tutto ben su in vai col centenario faremo una missione sicuramente vogliamo indietro la Madonna dell'acqua